io farei un clap ad Ema ragazzi io finite le bet finite anzi no già da subito fanculo le bet farei subito uno spam di abbraccini e cuoricini per Ema 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 porco il peluche Ema ma trovate in altro piano guardalo che serial killer no io non ci sto a credere guarda come cazzo saltella poi si fa 7 km di salti no mi stanno zucco bloccando io si gode cosa 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 dove è andato cos'è questa cosa chi l'ha preso Udini ottimo ottimo si gode dai alzati non si alza non si alza sto tornando allo spawn non si alza gli addominali su non si alza guarda la gettazza ha vinte no 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 mi fa schifo questo gioco questo gioco da disinstallare chi cazzo ha vinto ok ok a strozza fame no 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 quello non deve arrivare Dimitri club casama youtube gogo cosa 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 questo gioco fa cagare fa cagare ci cago sopra sono incinta può essere guarda questo che sta ma quello non perde questo verde non perde c'è avete visto quello mi ha tenuto eh rischioso 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 va bene lo sapevo che culo ho sbagliato un altro elo un altro elo un altro elo e niente e me lagga sempre sapevo va bene che signor vantaggino direi che è proprio il momento di prendere qualche palla in faccia e perché no di rotolare via ci capiterà una palla in faccia adesso quasi ma mi hanno rubato la cosa o non ce l'ho mai avuta un po' godo oddio due gialli alle spalle aaaah fune di fuga stiamo perdendo ce l'abbiamo solo io e damix la coda eh ma ok quattro pari situazione complessa farraginosa no fune di fuga da questa parte dai 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 ho rischiato ho rischiato ho rischiato ho rischiato stiamo aperti oh ma come ce l'ho uno di sti due era quello là in destra infatti ok tra di qua io mi fido guardate quanta gente c'è insomma ma 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 che cazzo oh no gente malvagia fune di fuga mo sto in feed mo tocca vince anche la prossima eh ma è Pampo uniti ho visto la cosa ce l'ha Pampo e' qua Pampo e' qua Pampo da me sta si gode si gode insomma no e vabbè c'ha il wifi lui però come l'ho gestita come l'ho gestita siamo a due di fila vediamo che tocca fa eh vediamo che tocca fa eh Amix e Luca non intiamo questa finale for col peluche che stiano in feed di due tutto è possibile è uno start non male che sfiga non mi prende il salto no 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 eh non fare questi scherzetti ha fatto ha fatto lo scherzetto ha fatto lo scherzetto tre di fila cinquantesima win e si vola siamo in feed di tre non si può intare siamo in feed di tre porco il peluche potrebbe essere una finale in 17 no 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 un calcio dammi un calcio 8 contro 9 squadra ci possiamo provare ho sbagliato tutto 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 bisogna stare concentrati un po' di tifo in chat please 9 in finale con calma mi sta a girare la testa squadra che è questo? che vuoi da me? quel signore è un problema quel brutto signore è forte e puzza anche un po' stamattina non si è lavato e via a giocare in casa mia questa è la mia valuta è un po' godo G1 win si un po' godo si mao mao è felice? fammi vedere questo trofeo datemelo dov'è? dov'è? si si gode vediamo just dance vi faccio una proposta eh vi dico una cosa facciamo caso oggi vi dico lo facciamo il 7 settembre quindi tra un mese avete un mese di tempo per mettere insieme dei punti canale e farmelo fare vestito con un tutu grazie a tutti grazie a tutti